Intro Bentornati i gamers su Prida Channel Torniamo con Child of Light Siamo rimasti in una grotta A parte è un po' strana con facce di sfondo E secchi che pensano giù dal soffietto Ma noi siamo intraprendenti e ci butteremo a capofitto ancora in un'altra missione Ah, questa cos'è? Ti pareva? Oh no, oh no Perché? Esatto, il trucco non ricordo Ci penso io, tu sei tranquillo che ci penso io Allora, ok, allora Tu ti puoi mettere Tu ti metti sicuramente qua No, non ti pareva Qua, allora, sì Ok, tu ti metti qua Eeeh Sì E poi Ah, guarda qua, guarda, guarda No, eh No, eh Scusa, tizia, tu puoi fare qualcosa? O sei qua sopra bellezza? Pio, pio, pio Poi, poi, poi Devo usare anche lei adesso? Fatemi indovinare C'è un qualcosa che non quadrà Si scende, attenzione E' luce, venga con me Cortesia, che qua mi sto Mi sto, mi sto a incisci A incischiare Malamente Ah, guarda qua cosa mi sto perdendo Ok Basta Scusa Sì Io voglio Un po' di punti Grazie Eh, la madonna Cosa è sta roba qua? Ai Uh Ok Che ho di aver capito Sì Posso ripartere Perfetto Ok Oh Tu, ragnetto di merda Ok Perfetto, salta Di questo Ok, sì Adesso faccio qualcosa che posso prendere Se pareva di no Tutta questa strada Per Oh Stai cadendo Stai cadendo Stai cadendo Per questo Per Solo Per Prendere Il trofeo che ho preso Ovviamente Uh E tu, e tu, e tu, e tu Ma voi lo Così lontane le mettono le cose Scava, scava Vai, vai, vai E ci siamo qua Nella grotta Giusto? Dobbiamo messo a avere questo Quizzone Questo qui Allora La luna può andare La luna può andare Tranquilamente Lassopra Tipo Qua Eh Non si è Vediamo Cosa c'è Da questa parte Non sopra Niente Ehi Di che Di che Di che Fermi tutti Sono io Devo passare Figlio di una buona Haters Che non sei altro Mio Annaggia Anaggia Eh vabbè Poi Facciamo che Poi Quando Ti pareva Tessando Devo Ullalala E fermo Allora Zio Tu colpisci male Lui Magari lo Fertilo Zia Voglio vedere No Un bel attacco Di luce potente Poderoso Verso il gargoyle Non è morto Attenzione Colpo Si Ma Su di lui Si Bravissima Non interromperlo Stendo all'acqua Vedete Funzionano 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 Fendenti Dei suoi confronti E tu Fendente Colpo Nei suoi confronti Però Colpi Colpi Di Fulmine Al gargoyle Non li han fatto Un cacchio Vediamo Il ragnetto Contoriali Dell'acqua Fulnerabile La fumia Si 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 Perfetto Perfetto Ahia Finito Perfetto Vado a recuperare qualcosa Però non siamo resistenti Buono 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 Attenzione Vanno in rima Vanno in rima Loro Vivono in rima Non sanno cosa fare Della vita Allora Io c'ho Io c'ho Fulmine Però Lei mi sa Che non è Fulmine Vero No Lei mi sa Che Debolla L'acqua Quindi Secondo me Secondo me Ragazzi Dobbiamo Cambiarci Un attimo Gli oculi Aumenta Aumenta Dai in acqua e attacchi da mischio E questo si Esatto Tu L'istenza al fuoco Si Beh PF Più Quelli Dopo Dopo Quando abbiamo un pochino più di oculi Cerchiamo un attimo di Di fare il tutto PF Si si Perfetto Esistenza Dai Un pochino più di oculi Percietto Andiamo Andiamo a combattere Hai attenzione Ecco Becco dal culo Eccolo Eccolo Uno Uno E' sicuramente Su chi mi metto Su Sul tipo Si Perfetto Abbiamo azzeccato Abbiamo azzeccato Il problema sarà dopo L'altro simpaticone E' lui che Li preoccupa Eh L'uomo che L'uomo che lancia le pietre Bene Interrompi il Focerista Perché Fa paura Focolaio Focole Dai che lo abbattiamo Sto Gran figlio Di una Ecco Perfetto Abbattuto E' il problema E' il pacocero Ci sta Ci sta facendo male Non poco Andiamo a prenderci Per lui Azione Prova a fare Mega raggio di luce Attenzione Tu fai un attacco normale Vediamo un attimo Cosa salta poi Vediamo un attimo 42 42 Mentre male Mentre male In realtà 20 42 20 Dai 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 La possiamo fare La possiamo fare Andiamo giù di cattiveria Senza troppo Senza fai troppo male Però è che intanto Vorrei anche Vorrei anche Prendere queste cose qua Non è per sfiducia Ma è Giusto per Attenzione Stiamo Stiamo massacrando Interrotto Deveva essere Il cubo finale In teoria No Ma perché Sto a 18 Con il primo Ho fatto 43 Scusami Non è che ho fatto 13 Non mi sono accorto Ok Era sul punto Di morire Ormai Andegli un level Però 12 F più 7 Forza più 2 Difesa più 5 Buono 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 Anche tu Buono Buono Va sempre bene Un po' di esperienza In più Però abbiamo Puntabilità Che adesso Non andremo a spendere Attimo Vediamo di capire Dove ci Dove ci porterà Questa 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 ragazza Recupera vita Recupera vita Recupera vita Recupera vita Recupera vita Recupera vita Cos'è 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 ben trovato Ragazzi Cos'è Cos'era Pulvere Della magia Va per inventarlo Vediamo Che si tratta Ah la voglia La voglia trovata Aumenta in modo permanente La magia di 3 Permanente Che significa Cioè Solo durante il combattimento In generale Aumenta L'abilità Generica Del personaggio Attenzione C'è C'è Un documento Che vola Un brutto Maialino Ok Qua c'è Qualcosa Per te Apri Quello Sogno curativo Sì Ma Questo C'è Questo Posso parlarci È un pappagallo Qualcosa Del genere Non ci credo Non ci credo Bene Se ne possiamo Anche a darlo Stavo dicendo Volevo Esplorare bene Tutta la zona Soprattutto qua sotto È buio 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 Non ci vedo Aspetti un attimo Qua c'è C'è qualcosa Per lei Ah no Lo fermo Ok Infatti Visto che abbiamo ancora L'assetto Attacco Attacco al fuoco È sempre la stessa storia Qua insomma Non è che si cambia Mai Allora È più veloce Il gargoyle O il tipo Il gargoyle Siamo fermi Sul gargoyle C'è C'è un'evolterabile All'acqua Un po' per uno Non fa male Nessuno Attacca Però attacca lui Ok Sì E poi l'altro Invece attacca Lui Quindi deve essere La fermare Entrambi Interrotto 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 In modo L'acqua Attenzione Allora Qualcuno Prima di attaccare Meno che Non riesco Io subito Colpo Su di lui Però ci spostiamo Anche su di lui Dovremmo riuscire A farcela E azione Se riesce Sul cucciolotto Sì Lo interrompiamo Addirittura Interrompiamo Entrambi Addirittura Attenzione Adesso però Lo recuperiamo Un po' di Lei Ce l'ha fatta lui Paralisi Adesso la paralisi Cacchio Tu blocca Tu blocca Per qualche istante La tipa Puoi riprendere A lavorare Sì Grazie mille Ma gli fa poco Secondo me Questo mostro Qua È allergico Alla luce Alla di lui Ci vediamo Che succede Sì Faccia luce Faccia luce Uh Guarda cosa c'è Un forziere Anche questi Fermatevi Ok Perfetto Ma Niente Tutto Il procedere Questa parte Andiamo Dal maialozzo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Sì Dal porco Attenzione Andiamo dal porco Lei Vogliamo combattere Con lei Oh Ciao 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 Prendi queste Ciao Ciao Cazzo Di versi Fai Porco Ulla Madonna No No Sti qua Non ci faccio Ci senti tutti Insieme Io Siamo calmi Allora Secondo me Il primo Che arriva L'upacchiotto No Non devo Fare il cambio Allora Aspetta Un anti Yeah È Molto No Ma attacchiamo 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 Non è La prima No Non Prende nessuno Dobbiamo attaccare In malo modo Il cane Il cane Il cane Chi è più veloce Qua Immagino Abbiamo fermato Tutti In maniera Cattiva 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 Ecco Appunto L'allentamento Io dico Ma no Ma non facciamolo Perché tanto non va Eh Boh Mi sta massacrando Vabbè Non fa niente Noi siamo temerari Quanto ormai Ormai non gli cambia niente Tipo lì Avere una cosa o l'altra Allora Visto che stanno attaccando In 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 Massa Azione Fendente Tu Sicuramente Poi tu Attacchi Colpo attacchi Lui è bloccato No Non riesco A bloccare Allora Non riesco a bloccare Allora Vediamo Pozioni Pozioni Una cura Una cura Per tu invece Attacchi Col pendente Lui pacchiotto Quanto ormai Colina Non ce la fai E Sto Di E Me la interrompe Me la ammazza Quasi Cura La sta donna Cura La Fai una fantasy Attenzione Chi Ragnetto Il pacchiotto Il pacchiotto No la tipa E ma porco Così non attacco più ragazzi Però No no Così non attacco più Così non attacco più Così Eh Yes Direi di mettermi in difesa ragazzi Vediamo che vado a mettersi in difesa adesso Che attacchino sempre me che sono in prima linea Ma dovrei provare a capire Ahia Che brutto colpo in testa Come mettere il Lentamento a posto Siamo Che qui ne ha più Ne metta Direi di passare all'attacco Nei confronti Del nostro amico lupo E tu E poi Tu puoi fare Sì puoi fare un bel colpo Qua Non devo fermarmi Grazie 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 Gentilissimo Gentilissimo Bene il pacchiotto sono andato Quindi possiamo Possiamo sfogarci sessualmente Con radio E poi dopo Ecco Mi ha già trovato Lui con Inizione Che male che fai però Quando ti ci metti Di scagliarci in maniera Abusiva Esistente all'acqua Come esistente all'acqua Era De Gliel'ho cambiato Niente Fendente su quello lì E tu Tu blocca il ragnetto In qualche modo E' qualcosa L'abbiamo bloccato E' Il problema è che Noi facciamo Noi facciamo una sega Il ragnetto C'è anche stanco A posta A posta Eeeh Vabbè 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 Questo qua Se è improvvisamente Spento il controller Vabbè Attenzione Colpo Panico 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 Cosa devo fare Ma siamo a difesa Cosa è successo Lancia Perfetto C'è via corazza Azione Visto che è esistente all'acqua Tu vai su di lui E tu vai su di lui Dai Quanta vita ha Sto cacchio di porco Eh Posso neanche Dai che c'è la femo Non interrompe Bravo Dai 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 Che stiamo morendo Stiamo Vientemente sta muore Questo non è Una volta Buono E Raccogliere desideri Se potesse Se potesse Azione Colpo Se di lui si riesci A bloccarlo Ok E il porco E il porco è morto Ma è solo il ragnetto Cacchio mi ha interrotto Cacchio di ragno De merda E non so Quello di stendere All'acqua Però purtroppo Ok 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 E il problema è questo Il problema è questo Devo ricordare di cambiare le cose È un casino Mi devo ricordare di cambiare Gli oculi In maniera Tipo questo Amminta Il fuoco Su la terra Come l'acqua E devo fare il fulmine Aggiungi danni al fulmine Ok Sì Questo invece Devo fare l'esistente All'acqua Andare senza l'acqua L'8% Sì E questo Lasciamo così Tu Uguale Devi tornare sul fulmine E Sull'acqua qua Però ho visto che Abbiamo qualche oculo Tipo quello è il fulmine Che ce l'abbiamo Vai Crea Emeraldo levigato Vai E allora 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 Direi A lei Mettiamo questo Mettiamo questo Aumenta Aggiungi Le fulmine Attacchi da mischia Aumenta la potenza Attacchi da fulmine Le fulmine Vinci sulla colla Cazzo Il cazzo Lo capito Perfetto Perfetto Volendo Allora Possiamo anche Farne un altro Per Il tipo Così lo mettiamo Anche al tipo Perché ci stiamo Smeraldo Levigato Figo Faigo Ok Poi ne ho 6 Ne ho 6 Di Di quelli del fuoco Vediamo Il levigato Esatto Vediamo cosa aumenta Aumenta di 8 I punti massimi Ottimo 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 Crea 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 Come se non ci possono domani Crea 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 Ok Ok Dovremmo esserci Attenzione Dovremmo esserci Sì Secondo me Per il momento Va bene così Va bene così Per il momento Sì 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 Liberazione Attenzione Questi poi ce li leggeremo Con calma Tutto rima Come al solito Leggetevo Ragazzi voi Tutto in pausa Io poi me lo leggo Con calma Più tardi Abilità Attenzione Stessa fisica Bella Aumentata Tu Aumento di pf Della velocità Io Ti punto la 3 Qua velocità Per il tuo ultimo Il tizio Ne ha 2 Addirittura A spendere Difesa Riduce i danni Dei attacchi Infatti E la vita Molto importante Very very Important Ok Abilità Ancora una Il nano Che è ancora Un'abilità Madonna Non l'ho visto Stagamo Invece Del fuoco elementare La creatura Sicura Vai Vai Di cattiveria Ok ragazzi Ok 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 Bene Per questo appuntamento Per oggi È tutto Con c'è Do Of Live Vedo A mettere Un bellissimo Invece Se ovviamente Il video Vi è piaciuto Un bellissimo Mi piace La facciamo A facebook Che vi lascio In descrizione E un saluto A tutti i gamers De fuoco Maggi